Aria di riscatto in Casa Rossonera, la vigilia dell'impegno con il Trapani. Dopo il K.O. del derby, la formazione frentana è chiamata alla conquista di un risultato positivo anche per blindare una salvezza, a cui manca solo il sigillo dell'aritmetica. In terra siciliana, la squadra del presidente Maio non vuole sbagliare anche per chiudere bene una stagione comunque positiva. Per la gara di questa sera, mister Roberto D'Aversa sarà ancora costretto a cambiare formazione considerando le assenze degli squalificati Cerri Conti, Aquilanti e Mammarella. Di fronte ci sarà un Trapani che dovrà cercare a sua volta di conquistare l'intera posta per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Con 43 punti all'attivo, gli amaranto siciliani non sono infatti ancora al riparo da brutte sorprese. Proprio a causa delle assenze, il tecnico frentano cambierà ancora formazione non abdicando però dal solito 4-3-3 con Nicolas in porta, Tresta Menta, Nunzella e Di Cecco in difesa. Grossi, Paghera e Vastola a centrocampo e Piccolo, Monachello e De Silvestro in attacco. Per Bacinovic e Tiam potrebbe dunque scattare un turno di riposo. Non ci saranno invece gli infortunati Gatto e Turchi. Problemi di formazione anche nel Trapani. Serse Cosmi dovrà infatti fare a meno di Lombardi, Basso, Perticone, Terlizzi e Vidanov dopo le polemiche per la direzione di Luca Pairetto nella sfida con il Pescara. Ma l'umore ha suscitato la designazione per la gara di questa sera del signor Aureliano di Bologna già contestato dai lancianesi nei due precedenti proprio con i siciliani.